Ripartono al Chiaia Hotel des Charmes gli incontri di Poeté, la rassegna letteraria quest'anno alla sesta edizione che punta su arte e poesia per contrastare ogni forma di esclusione. L'idea nasce dall'incontro casuale tra l'imprenditore Pietro Fusella, titolare dell'albergo, e il direttore artistico Claudio Finelli, da anni impegnato per la rivendicazione dei diritti di omosessuali e transessuali. Da allora il progetto ha interessato un gran numero di artisti, scrittori e giornalisti, convinti che con la cultura si possono eliminare pregiudizi e discriminazioni radicate nell'immaginario collettivo. Le novità di questa sesta edizione sono sicuramente in due nuove partnership molto importanti, uno chiaramente con la regione Campania, con il comune di Napoli e con il consolato francese, con l'istituto francese di Napoli e di Grenoble. Infatti due incontri di poi tre avverranno appunto a Via Crispi, presso il palazzo del consolato, con due importanti nomi della letteratura francese contemporanea che sono Edouard Louis e Frédéric Martel. Gli incontri con cadenza bimensile e ad ingresso gratuito inizieranno mercoledì 15 ottobre alle 18.30 e sono in programma fino ad aprile. Prevedono una conversazione tra l'ospite e il lettore artistico e letture drammatizzate e interpretate da noti attori partenopei. Tutto con un'unica mission che è quella della lotta alle discriminazioni, che è quella alla lotta a qualsiasi forma di esclusione, a qualsiasi forma di stigma. Poetè è un'esperienza molto bella che si è arricchita negli anni e che noi ci auguriamo possa proseguire perché uno degli elementi più importanti è la prevenzione rispetto alla discriminazione e a ogni forma di contrasto alla violenza di genere. e credo che il lavoro della prevenzione migliore che si possa immaginare sia quello culturale. Poetè sta facendo un ottimo lavoro da questo punto di vista, allargando anche il raggio di intervento su varie forme di arte. Quindi io penso che sia un'esperienza molto bella che certamente il Comune intende sostenere e far proseguire.